Un saluto a voi tutti, bentrovati, bentornato al Presidente di Confettigianato Davide Galli, è sempre un piacere averlo ospite per parlare di temi di attualità, temi economici, temi importanti che riguardano più o meno direttamente tutti noi, perché qua si parla di lavoro, si parla di impresa, si parla di futuro, si parla anche di istruzione in questa nostra gacchierata e verremo tra qualche minuto a spiegarvi perché. Nel frattempo però tastiamo un po' il polso del momento, possiamo parlare di segnali positivi? Beh, assolutamente sì, io direi che proprio a partire dall'inizio dell'anno, ma soprattutto nell'ultimo periodo, diciamo da marzo in poi, c'è stato un, forse definirlo boom eccessivo, ma comunque un incentivo nelle attività, soprattutto del manifatturiero, ma anche dei servizi, che è significativo. Ecco, è un aspetto che ci lascia ben sperare perché non è stata un'occasione spot, ma è qualcosa che si sta consolidando nel tempo. Ecco, per consolidare ulteriormente questi segnali positivi, che ovviamente non offuscano tutti quelli negativi, adesso non è per essere ammenagami, perché chiaramente le difficoltà ce ne sono tante, specialmente nel settore manifatturiero. Però per consolidare quei segnali invece in controtendenza, quindi in tendenza positiva, occorre sostegno. Vediamo un paio di queste stampelle. Da un lato c'è quella del credito, che è un tema gigantesco, forse troppo spesso si confondono le acque, nel senso che si parla dell'accesso al credito per l'impresa nel suo complesso, mettendo nel calderone le piccole e le piccolissime, insieme alle grandi e le grandissime. Voi vi occupate soprattutto di appunto artigianato, di piccole imprese, a volte anche di micro imprese, e per queste ultime il credito è più che una sfida. Assolutamente. Quello che sta succedendo è che le banche, soggette anche ai vincoli dell'Unione Europea, devono sempre più, per sicurezza dei risparmiatori, accantonare delle cifre, ripeto, a garanzia dei crediti che danno. Ma questo riduce la capacità loro di intervenire sul credito, soprattutto per le micro imprese. Perché il lavoro per dare credito a una grande impresa, o a una piccola o a una micro, se vogliamo, dal punto di vista operativo di una banca è lo stesso. Quindi preferiscono magari operare su importi più cospicui, e quindi tendono a limitare un po' quello che è il credito alle micro aziende, perché è tanto lavoro e dà poca resa. E quindi adesso noi abbiamo, come sempre, lo ribadisco, il sistema dei confidi, che è sicuramente un ammortizzatore. Però più si andrà avanti nel tempo, meno credito ci sarà per le piccole imprese. Quindi bisogna pensare a qualcosa di assolutamente alternativo, perché così rischeremo di avere una morte per asfissia delle micro imprese, soprattutto. La misura che cos'è? Una sorta di autogestione privata al di fuori delle banche? Questa è un'idea che mi viene, la ripeto, è da sviluppare, perché mi rendo conto che non è semplice. In questo senso c'è una quantità sul sistema di capitale privato che non è assolutamente impiegato nel mondo delle imprese e che dall'altra parte, visto i bassi rendimenti che ci sono nel mondo finanziario, negli investimenti finanziari, resta spesso bloccato, resta spesso inutilizzato. Quello che come provocazione io mi sento di chiedere è perché non cercare un sistema per impiegare capitali privati in investimenti sulle piccole imprese, che sicuramente, ripeto, magari hanno importi limitati nei loro volumi d'affari, ma hanno rendimenti assolutamente interessanti. Ripeto, è una sfida, è una cosa non semplice da fare, ma secondo me è una via che va perseguita. Quindi, semplificando, l'idea è di mettere in sinergia le imprese non solo per ragioni di impresa, ma anche per ragioni di credito, perché ci sono dei capitali che potrebbero essere utilizzati, in un certo senso potrebbero anche portare benefici in termini di investimenti, se concentrati in quella parte dell'impresa, troppo spesso dimenticata dalle banche. Questo ci stiamo dicendo. Assolutamente. E io penso anche che potrebbe essere utile questa forma di finanziamento dal privato per creare delle strutture, magari anche tramite le associazioni, anzi, secondo me, senz'altro attraverso le associazioni, che possano dare garanzia ai privati per questo credito, nel senso di andare a formare le aziende, a confrontarsi con questi mercati di capitali, che sono sicuramente per le micro e piccole aziende delle novità, e quindi vanno, diciamo, un po' formate a questa nuova tipologia di finanziamento. Però questa formazione porterebbe anche le aziende ad essere più virtuose nella loro gestione. Ripeto, è un cammino complesso, è una sfida difficile, però secondo me è una sfida che va assolutamente affrontata perché può essere un beneficio per gli investitori e per le imprese. Ma il sistema Confidi potrebbe fare un po' da capinaria di queste... Ma potrebbe anche... Secondo me sì, secondo me sì. Sistema Confidi, che è ancora rivolto al sostegno delle piccole e micro imprese, molto rivolto, potrebbe fare l'affitto, ripeto, in sinergia con le associazioni. Altra stampella, poi parlare di stampella è un po' avvilente, diciamo che stampella è il punto di partenza, si spera che possa essere un trampolino più che una stampella, è quella della formazione. È un altro tema, non dolente, perché è un tema necessario, però sinceramente spesso, e con Fertigianato è in prima linea da questo punto di vista, un po' trascurato, come se fosse un accessorio del sistema imprese, invece ne dovrebbe essere un protagonista. La voglio provocare un po' su questo tema, so che lei è sensibile a questo proposito, perché noi anche da queste emittente spesso ci siamo interrogati sugli errori commessi a livello culturale e scolastico negli anni passati, ormai negli decenni passati, in cui la scuola superiore per eccellenza doveva essere il liceo, gli istituti tecnico-professionali venivano un po' lasciati lì, snobbati, diciamo, francamente snobbati. Oggi stiamo pagando il prezzo di questo cortocircuito culturale con studenti dei licei che rischiano di rimanere a piedi e studenti degli istituti professionali che vengono cercati e non ci sono. E poi da qui si avvicina un'altra tematica, che è quella della ricollocazione. Qui c'è un problema effettivamente di, come posso dire, di professionalità, di qualifica. Beh, assolutamente, ecco, parto dicendo che io ho fatto il liceo, quindi sono... Anch'io! Però è così, ha centrato il problema. È un fattore soprattutto ed è stato un fattore culturale. La desertificazione dell'insegnamento professionale, qui parliamo di istituti tecnici, che sono stati, da nostra fortuna, tanti anni fa e che hanno formato una categoria di tecnici di primissimo ordine. Poi a un certo punto, no, fare l'istituto tecnico era dequalificante. Cos'è successo? Adesso il problema... I nodi vengono al pettine, come si dice con uno stereotipo. Perché? Perché nelle aziende che oggi, ecco, si parlava prima di ripresa, però non dimentichiamo che la ripresa oggi è soprattutto nelle aziende che stanno innovando, sia in termini di prodotto che in termini di processo. L'industria 4.0, o come la vogliamo chiamare, è significativa in questo senso. Ecco, quindi c'è stato questo boom di aziende tecnologicamente avanzate o che fanno prodotti tecnologicamente avanzati. e questo richiede professionalità più elevate, anzi molto più elevate. Le aziende ce le hanno queste professionalità perché sono quelle che si sono formate al loro interno ma stanno arrivando alla fine di questo percorso, perché sono generalmente figure qualificate ma che stanno andando verso la meritata pensione. Si è creato un vuoto perché è quello che, giustamente diceva lei, delle professionalità che non si sono create quando si è desertificata l'istituzione tecnica. Adesso si è capito il problema e si sta ricostruendo questo percorso. Però è un percorso lento perché, come giustamente è stato sottolineato, c'è un fattore culturale alla base di questo. E quindi, come tutti i cambiamenti culturali, richiedono tempo. Le scuole tecniche si stanno riqualificando, stanno sfornando delle ottime figure professionali nei nostri giovani, però sono pochi. E quindi c'è questo vuoto. E quindi oggi c'è questo assurdo delle aziende che richiedono professionalità e che non le trovano. E dall'altra parte c'è un problema altrettanto grave, un problema sociale, che sono le figure con bassa qualifica che vengono estromesse dal mondo del lavoro perché non c'è più richiesta di questa tipologia di lavoratore. Dobbiamo porci il problema di cosa potranno fare, di cosa è possibile riqualificarle. In certi casi può essere perché comunque sono figure che hanno operato all'interno delle aziende e quindi le conoscono. Però qui bisogna fare qualche ragionamento. Quindi, siccome stiamo parlando di realtà e di individualità molto diverse, anche di generazioni molto diverse, cerchiamo di dividere in settori, diciamo, in comparti pratici, quello che il Presidente Galli ci sta dicendo. Allora, per quanto riguarda i più giovani, cioè coloro che ancora sono a scuola, un rafforzamento dell'istruzione tecnico-professionale è assolutamente doverosa. È tardiva, ma insomma, meglio tardi che mai, bisogna valorizzarla nuovamente. Dall'altro lato c'è un processo di alternanza scuola-lavoro per chi invece la scuola la sta finendo e l'alternanza quando è ben congegnata fa sì che i giovani possano avvicinarsi davvero alle imprese trascorrendo sempre più ore all'interno dell'azienda anziché sui banchi scolastici in modo da rendere sempre più pratico e più empirico il loro avvicinamento alla professione che verrà. Poi c'è il problema della ricollocazione, della riconversione, della riqualificazione di professionalità che purtroppo, colpa della crisi, chiamiamola così in termini generici, lascia a piedi delle professionalità che sono troppo giovani per lo scivolo pensionistico perché magari hanno tra i 40 e i 50 anni. Loro possono essere nuovamente ricollocati, rimessi in circolo, rivalorizzati e in questo senso, ancora una volta, l'impresa può fare da sé, cioè l'impresa può mettere a disposizione risorse conoscitive ed economiche per far scuola, insomma, per farsi su misura i propri lavoratori di domani. Sì, oggi ecco, anche qui ha centrato pienamente il problema, un problema poi che tocca molto le aziende del nostro comparto, quindi le piccole e medie aziende e anche le micro, perché sappiamo, forse, cioè, le grandi aziende possono avere una capacità formativa anche più elevata, però per i nostri mestieri, per le nostre tipologie ci sono delle specificità che non possono spesso essere ritrovate nel mondo formativo convenzionale, per cui ci sono tutti gli strumenti, gli strumenti adesso legislativi, secondo me ci sono, poi possono essere migliorati, ma quando parliamo di alternanza scuola-lavoro per il periodo in cui gli studenti sono ancora nella scuola secondaria e quindi si avvicinano però al mondo dell'impresa e sono assolutamente favorevoli, perché questo influisce sia per la conoscenza del giovane stesso del mondo del lavoro, ma anche per cambiare quel fattore culturale di cui parlavamo, perché i ragazzi entrando nelle aziende, ma anche le loro famiglie, ma anche e soprattutto i loro insegnanti capiscono che il mondo del lavoro non è da demonizzare, anzi, da grandi soddisfazioni. C'è poi l'altro strumento che è l'apprendistato nelle sue varie forme, di primo, di terzo livello, quindi più qualificato o meno qualificato, che dà un aiuto, perché comunque permette già alle aziende di intervenire nel percorso formativo del ragazzo e di formarsene, diciamo, di sartorialmente sui propri usi e costumi. E poi secondo me c'è un altro momento da sviluppare, perché questo non è ancora stato sviluppato, ma che è interessante, che può servire sia ai ragazzi, ma sia la riqualificazione professionale di chi non ha le capacità per adeguarsi al nuovo modello organizzativo delle aziende, ed è quello di fare una sorta di scuola dei mestieri. Ecco, io sottolineo una cosa, per gli imprenditori fare formazione è indispensabile, ma è impegnativo, non prendiamolo per una cosa facile, molto spesso si va a dire l'imprenditore così sfrutta lo studente, sfrutta il lavoratore nella formazione, non è così, perché l'imprenditore che lo fa seriamente, che vuole e capisce che ha necessità di formare i ragazzi o i lavoratori, ecco, ci deve mettere un grandissimo impegno. Nelle nostre imprese spesso questo addirittura non basta, cioè i nostri imprenditori non possono avere nel tempo né magari anche la capacità di formare essendo soli, quindi in questa fase è importante fare davvero la tanto ripetuta sinergia tra il mondo della scuola, il mondo delle associazioni, che sono sicuramente centrali in questo percorso, e il mondo delle aziende. Ecco, questo ripeto può essere una grandissima opportunità per, se vogliamo, accorciare quei tempi di riqualificazione o di qualificazione del nuovo modello di lavoratore. Sì, diciamo che anche qui banalizzando, mi perdoni per chiudere, se banalizzo un po', per tanti anni abbiamo lasciato il mondo del lavoro e il mondo della scuola come due galassie separate, l'alternanza scuola-lavoro, i percorsi di stasi, di tirocini e soprattutto l'apprendistato hanno creato un ponte, adesso la scuola dei mestieri sarebbe veramente un'anticamera di entrambe, cioè finalmente si arriverebbe a una casa unica in cui chi studia e chi lavora convive. È assolutamente così, è assolutamente così, io ripeto, è tutto un work in progress, perché secondo me sarà tutto un po' da ritarare, ma d'altra parte se non si parte, se non si sperimenta, non si arriva a una soluzione praticabile. Adesso, ecco, da parte dell'associazione c'è questo grosso impegno, questo grosso sforzo, lo stiamo facendo con anche l'IFE, la nostra scuola di formazione, insomma, ci crediamo in quello che io ho detto e in quello che stiamo facendo e sicuramente c'è più disponibilità dal mondo della scuola, sicuramente c'è disponibilità dal mondo delle imprese perché mancandogli le figure professionali capiscono che sta diventando un problema molto serio. Grazie Presidente Galli, grazie per questa bella chiacchierata e anche per i temi sviscerati decisamente importanti, anzi cruciali. A riederci a presto. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie. Grazie a tutti.